Stefania, io so tra l'altro che il tuo migliore amico è gay. Sì. Credi che questo sia una coincidenza, il fatto che tu abbia comunque legato nella casa in modo particolare con Tommy? No, non credo che sia una cosa naturale. Certo. Non guardo mai. Sai, io non amo. Io ho tantissime amiche che al di là del discorso così, non è prettamente sessuale, però moltissime amiche che hanno come i migliori amici degli omosessuali. Questo perché dicono che sono amici meravigliosi. Sì, ma io non amo ruolizzare, è soltanto un caso. Io divido il mondo fra brave persone e persone meno brave. A me piacciono le persone per bene, le persone con cui sto bene. Se poi succede che siano gay è un caso, non vado a cercare quello. Tommaso è una persona meravigliosa, al di là del suo orientamento sessuale. Io non amo ruolizzare, ti ripeto. Io non amo ruolizzare, ti ripeto.